DOS! Bene, finalmente abbiamo abbattuto Kochi Gamuta e Masin Kaisar. Missili turbo perforanti! Maledetto! E così sei ancora qui, Masin Kaisar! Attaccate! Adesso tocca a voi, eroi invincibili del mio esercito di mostri guerrieri! Godete della battaglia e fate a pezzi l'odiato Masin Kaisar! Che dolore! Boss! Boss! Ai ai ai, che botta! Ehi, state tutti bene a quanto vedo! Ma come fai a essere illeso? Sai, i veri eroi sono immortali! Piuttosto bisogna andare subito ad aiutare Kochi e Masin Kaisar! Non c'è da preoccuparsi, Kochi è in grado di badare a se stesso. Ora pensiamo a ripararci in un posto sicuro e dobbiamo farlo il più presto possibile. Ma papà, così? Tranquillo, professore! Penserò io a guidarvi nella buia strada del bosco! Che diavolo è quello? Che cos'era? Tu lo sai, papà! Pugno turbocarponente! Ma cosa? Maledetto! Pugno turbocarponente! Vampa infernale! Allora che te ne fai? Che cos'è? Tu sei... Un mostro meccanico composito! Un mostro meccanico composito! Che diavolo sarebbe? Un mostro eteroforme, costruito assemblando la testa di Garada K7, i colli di Dablas M2 e il resto del corpo con parti di altri potenti mostri meccanici. È un'arma terrificante! Ah! E sperano di battere Masin Kaisar con quell'assurdo miscuglio di ridicoli mostri? Pugno turbocarponente! Maledizione! Ma cosa? Venus! Kaji, ma che cosa stai combinando? Lasciami! Lasciami andare, Venus! Ti ho detto di lasciarmi andare! Venus! Maledetti! Registi, Kaji! Oh no, se ne vanno! Ma dove lo vogliono portare? Il cratere del Fuji! Ho capito, hanno intenzione di fare ruttare il vulcano! Oh no, è terribile! Kaji! Non so se Masin Kaisar riuscirà a resistere al terribile calore del magma! Scappa, Kaji! Devi scappare! Niente, non riesco a muovermi! Lasciami andare! Maledetto mostro! Lascia subito Masin Kaisar! No! Non posso perdere! Ma Zin Kaisar non perderà mai! Maledizione! No! Finalmente ce l'ho fatta! La vittoria è vicina! Il momento tanto atteso è arrivato! Coraggio, miei combattenti! Sferrate l'ultimo attacco e distruggete tutto! E ora, preparate l'isola infernale alla partenza! Destinazione... Giappone! Vieni fuori, Kaji! Oh no, Kaji! Kaji! Non mi lascerò sconfiggere! Ma Zin Kaisar non può perdere! Coraggio, Ma Zin Kaisar! Non puoi perdere! Ma Zin Kaisar non perderà mai! Ma Zin Kaisar non perderà mai! Ilutare! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E il mondo potrà vivere senza paura. Ma Zinkaiser, dammi la tua energia!